Gabriele Mannucci, Head of Travel di Allianz Partners. Un aggettivo per descrivere eufemia? Sorprendente. Ritieni che la figura del consulente di viaggio sia determinante per il futuro del settore? Penso sia assolutamente fondamentale, viste le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi anni, questa è una soluzione che secondo me attira moltissime persone del settore e gli permetterà forse di lavorare in modo ancora più efficace, quindi secondo me sì, assolutamente. E qual è il valore principale che secondo te attribuisci a questo tipo di business, a questo modello di business? Beh, per chi decide di utilizzarlo penso la possibilità di concentrarsi sul rapporto con la propria clientela, quindi non dover preoccuparsi di tante preoccupazioni legate ad esempio ai costi fissi che aveva prima e quindi può dedicarsi in toto a soddisfare i desideri dei propri clienti.